Che i giovani aiutino la Chiesa a ringiovanire il proprio volto. Allora, per me salesiano, il tema anche bello, importante, profondo, è quello che i giovani aiutino la famiglia salesiana a ringiovanire, a riacquisire un rinnovato dinamismo giovanile, che è un dinamismo capace di rischiare, che è un dinamismo che non ha paura delle cadute, che è un dinamismo capace di scommettere sui giovani, che è un dinamismo aperto alla creatività, che è un dinamismo che non perde mai la speranza, che è un dinamismo che trova sempre, anche nel giovane più povero abbandonato, un punto accessibile al bene. Ecco, questa esperienza mi ha fatto vedere che di punti accessibili al bene nella gioventù di oggi ce ne sono molti. Grazie. Grazie.